ragazzi una cosa che non riesco a capire no la pubblicità no cioè sarò perché son pazzo io no cioè io quando compro una roba non la compro perché l'ho vista in televisione cioè questi danno un sacco di soldi alla prima puttana che nella vita non ha fatto un cazzo che fa la reclama per lo shampoo dei capelli per quelle robe lì e la gente va a comprare quella marca lì non c'è ti dimostra quanta la gente sia gestibile è per questo che ci sono quattro menti forse o 40 400 che hanno capito che il mondo è fatto di gente che la puoi fottere come vuoi e meno male che adesso non c'è nerone va se no ci dava fuoco fino a scotto ed ho bennato grande edo